Avevano appuntamento con l'assessore Silvia Miglietta e con l'assessore Alessandro Delinoci, residenti delle case Magno, per un sopralluogo presso le abitazioni di edilizia popolare, ma dopo oltre un'ora di attesa, la mara presa di coscienza che non ci sarebbe stato nessun incontro. La verità l'ha chiesto l'assessore, noi ci siamo detti disponibili, d'altra parte è una cosa anche dovuta, considerato che gli alloggi sono loro e ci sono responsabilità ben precise. Dobbiamo noi scusarci per loro perché loro non sono venuti. Io penso che per risolvere una volta per tutte questa storia che ormai si porta avanti da anni, è innanzitutto commissariare questo ufficio casa per capire questa documentazione dove è finita e questi incendi, queste focore di Sant'Antonio non sono esistite mai. Situazione diversa presso le case popolari di via Pozzuolo dove gli assegnatari esprimono soddisfazione. Sono tutte buone, belle le abitazioni, non c'è niente da dire, a mia nipote le hanno dati la casa e io sono contenta. Grazie al comune che mi ha restituito la casa, che aspettavo. Nonostante l'esterno trassandato e trascurato, le case si presentano confortevoli e pulite con i servizi primari garantiti. Quanto paga di affitto lei qui? Non so perché non mi hanno dato il contratto, il contratto non me l'hanno dato, se non vedo il contratto non so che devo pagare. Ma le richieste comunque non tardano ad arrivare. Mancano i contratti, hanno necessità di fare di sé alcune persone, abbiamo un problema con i telefoni che ci dovrebbero dire o indirizzare a chi rivolgerci perché c'è gente anziana che ha bisogno del fisso. E i garage, abbiamo bisogno dei garage, i garage servono perché qui non c'è spazio.